Per due manager su tre, avere dei colleghi di lavoro con disabilità rappresenta un'opportunità per l'azienda. Emerge dall'indagine promossa da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Prioritalia, Manager Italia e Osservatorio Socialis, e resa nota in occasione dell'avvio della partnership istituzionale tra l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la Fondazione Prioritalia. Aprirsi alla diversità per valorizzare la disabilità in azienda e renderla una risorsa per tutti. Oggi con questo evento nasce anche una partnership, un'alleanza strategica tra Prioritalia e AISM, un'associazione che si occupa di disabilità da 50 anni. Vogliamo diffondere un nuovo approccio culturale in tutta la società e dentro le organizzazioni. Valorizzare diversità e disabilità sviluppando dunque competenze menageriali nuove per un mondo che cambia. Persone con disabilità che molte volte hanno una disabilità assolutamente compatibile, come nel caso della Sclerosi Multipla, con il mondo del lavoro, con l'impegno nel mondo del lavoro e con lo svolgimento di tutte le funzioni a tutti i livelli che possono dare un contributo positivo, propositivo all'azienda. Un'opportunità che serve per competere e che richiede un cambiamento organizzativo vantaggioso per tutti. Serve però migliorare la conoscenza delle specifiche esigenze di queste persone e in questo chiediamo la collaborazione delle associazioni perché loro conoscono esattamente queste esigenze e possono aiutare i manager a fare progetti collaborativi per migliorare lo stato organizzativo sia di chi è disabile e lavora in azienda sia dell'azienda stessa.